dai sostenitori grillini via libera online per la squadra che dovrà gestire il movimento su oltre 130.020 diritto partecipano solo in 28.322 gli ostacoli per l'ex premier dal voto online sulla piattaforma skyvote arriva il disco verde degli iscritti m5s alla proposta avanzata da giuseppe conte come presidente del movimento riguardo la nomina di cinque vice presidenti michele gubitosa riccardo ricciardi paola taverna alessandra todde e mario turco punto i sì sono stati 25.061 3.261 invece no se la percentuale di voti favorevoli è una buona notizia per l'ex premier non lo è affatto quella della partecipazione il livello di interesse della base dei cinque stelle fattore chiave che ne aveva sancito l'ascesa ai tempi d'oro continua infatti a crollare su 131.790 aventi diritto al voto hanno partecipato solo in 28.322 poco più del 20% l'affluenza è stata ancora più bassa di quella registrata il 30 novembre e quando appena un iscritto su 4 aveva cliccato per votare sì o no a ricevere il 2 per mille dallo stato uno storico tabù quello dei soldi pubblici superato anche per incassare risorse essenziali per rimettere in sesto le casse in rosso del movimento la nostra base si è espressa con alte percentuali con una media che sfiora il 90% a favore della nuova organizzazione del movimento partiamo con entusiasmo a sostegno dell'italia dice conte dopo lo spoglio virtuale dei voti tra i vicepresidenti paola taverna il ruolo di vicario di conte di fatto quello con il peso politico più rilevante e dei 17 coordinatori dei comitati solo 4 entreranno a far parte della segreteria sono chiara appendino alfonso buonafede fabio massimo castaldo e gianluca perilli la base del movimento inoltre ha poi approvato anche l'elezione dei componenti dei comitati previsti dallo statuto dal lavoro alla giustizia dalla sicurezza all'economia e agli enti locali solo per fare alcuni esempi a questo punto la nuova macchina organizzativa a disposizione del leader appare quasi completata gli ultimi passaggi non erano stati positivi per conte che dopo aver dovuto cedere sulla conferma del fedelissimo ettore liccheri alla guida del gruppo al senato sostituito da mariolina castellone ha poi dovuto registrare anche la conferma di davide crippa fedelissimo di beppe grillo al timone dei 5 stelle alla camera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti